Il modo migliore per evitare che il tempo di detenzione sia un tempo sprecato è fare in modo che il detenuto, pur sapendo di essere in detenzione, non senta di esserlo. Con questa riflessione di Dostoevsky ha preso il via il convegno Tempo Perso, il ruolo del carcere nei percorsi trattamentali di sex offenders e maltrattanti, organizzato e moderato dal garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano. L'idea è di riflettere assieme, sentendo buone prassi, progetti e iniziative nate nell'ambito penitenziario, sul delicatissimo tema del trattamento per le persone che sono in carcere sulla base di reati di natura sessuale, di maltrattamento. Mellano ha ricordato che la legge finanziaria nazionale ha previsto nel bilancio 2 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 per garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva. È intervenuta la responsabile dell'ufficio detenuti e trattamento del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria regionale, Katia Taraschi, che ha fatto presente come al momento nelle carceri piemontesi, siano presenti complessivamente 373 maltrattanti e sex offenders. Sappiamo che la legge di bilancio ha istituito il piano gestionale per il trattamento intensificato nei confronti degli autori di reato contro le donne per la prevenzione della recidiva. L'auspicio è di avere l'assegnazione di questi fondi e di poter realizzare almeno un progetto in ogni sezione che ospita questa tipologia dei detenuti. Tra gli interventi è anche quello di Giorgia Zara, docente del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Turino e vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Il reato sessuale non è una faccenda privata. Il sex offending e l'ittima partner violence passano per il corpo per offendere la persona. Ma è importante sottolineare che non hanno niente a che fare con il desiderio di contatto, con il desiderio dell'intimità e con la sessualità. Sono intervenuti anche Dea Demian Pisano, assistente sociale ed esperta presso l'ufficio della garante regionale della Campania, la coordinatrice della formazione dei progetti speciali del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 1, Adele Di Stefano, e il presidente del Centro Italiano di Promozione della Mediazione, Paolo Giulini. Ha chiuso i lavori il portavoce dei garanti territoriali e docente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, Stefano Anastasia. La sfida è difficilissima. Noi garanti possiamo far tanto, intanto per il coinvolgimento delle istituzioni e degli enti territoriali.